Quanto è accaduto lunedì scorso a Ragusa con questa sequenza di post su Facebook da parte del sindaco ha veramente dell'incredibile e lo possiamo ascrivere tranquillamente alla categoria del dilettantismo comunicativo perché non si può ingenerare panico in una città e poi subito dopo rimangiarsi quello che è stato detto la mattina. Ma non voglio commentare questi fatti perché d'altronde si commentano da soli però quanto è accaduto mi dà la possibilità di fare un'ulteriore riflessione di carattere generale. Questi 14 mesi di pandemia hanno evidenziato ancora una volta come quelle cerbero a tre teste delle competenze istituzionali tra Stato, Regioni e Comuni ha veramente portato ad una situazione che ha dell'incredibile perché sia già nella prima fase quella della pandemia dell'anno scorso o della primavera dell'anno scorso abbiamo visto come le Regioni e i Comuni sono andati ognuno per le loro strade prendendo provvedimenti che erano molte volte anche in antitesi con quelli che erano le linee guida dettate dal Ministero della Salute a livello nazionale. E via via tutto questo si è acuito anche per quell'aspetto proprio da parte dei governatori, da parte dei sindaci di prestare molta attenzione a quello che è il consenso elettorale e il consenso del popolo. E abbiamo appunto visto come certe figure di governatori e certe figure di sindaco poi si sono veramente elevate a dei momenti comunicativi molto forti, molto alti basti pensare al governatore della Campania, al governatore della Lombardia e anche per quanto riguarda i sindaci il sindaco di Messina ne è stato un esempio molto ma molto lampante. Ecco che quindi la situazione si è poi anche ora in questo momento riproposta per quanto riguarda la campagna vaccinale. Ogni Regione sta andando per le proprie strade. È ovvio che qui il peccato originale risiede nella famosa modifica del titolo V della Costituzione nel 2001 con l'aver dato alle regioni, aver modificato la Costituzione e aver dato appunto alle regioni quella legislazione concorrente in tema di sanità che poi nel nostro territorio, nella Sicilia, il problema si acuisce anche in considerazione del fatto che la regione siciliana ha competenza esclusiva sulla materia sanitaria. Quindi abbiamo alla fine creato in Italia 20 sistemi sanitari e poi aggiungiamo anche quella delle province autonome. Quindi una situazione che è a macchia di leopardo e lo stiamo vedendo in questo momento nella campagna vaccinale. Noi abbiamo regioni che sono molto avanti nella vaccinazione per esempio delle categorie più fragili o degli over 80 e regioni molto indietro. Basti fare l'esempio del Lazio dove si stanno vaccinando i settantenni e la Lombardia invece dove ancora tantissimi over 80 non sono ancora stati immunizzati. Ma guardate che io non ne faccio un ragionamento di carattere, di coloritura politica delle regioni perché anche tra le regioni per esempio attrazione leghista, sono quelle che stanno funzionando meglio della Lombardia e anche tra le regioni a guida del centro-sinistra e del PD in particolare. Basti vedere e fare la comparazione tra quello che accade nella regione Lazio e quello che accade nella regione Toscana. Due mondi completamente differenti. Ecco che quindi qui la situazione sta sfuggendo di mano perché non vi è la possibilità di incidere dal livello nazionale su questi 20 sistemi sanitari e non vi è la possibilità proprio perché abbiamo quel tipo di legislazione concorrente da parte delle regioni e non possiamo intervenire con un'azione molto decisa, molto dura sulle regioni che sono più indietro nella campagna vaccinale. Altra cosa sarebbe quella appunto di ipotizzare ma questo è un discorso che dovrà vedere il prossimo Parlamento, quindi la prossima legislatura ipotizzare un disegno di legge e poi trasformarlo in legge anche costituzionale dove si ridà in caso per esempio di emergenza un potere centrale che è valido per tutte le regioni e per tutti i comuni perché poi ecco anche i sindaci ritornando un attimo a quello che è stato passato dai ragusani lunedì anche i sindaci poi sempre attenti a quello che è il loro consenso a non magari a non disturbare determinate categorie poi si non hanno intrapreso azioni decise ma ci sono però anche sindaci che invece come abbiamo visto nel recente passato sono andati in piazza a togliere i tavolini a gente che protestava e faceva assembramento ecco che quindi dobbiamo ritornare ad avere un'uniformità di norme, un'uniformità di operatività che in questo momento manca e questo guardate che poi dà ai cittadini un attimo di smarrimento perché non si capisce in quanto poi si creano cittadini di serie A e cittadini di serie B perché è ovvio che l'ottantenne che abita in Lombardia si sente sicuramente diverso rispetto all'ottantenne che abita nella regione Lazio e questa disparità di trattamento non può essere accettata minimamente bisogna tornare ad una uniformità di trattamento oggi la situazione che vedete alle mie spalle è quella invece che riguarda il centro vaccinale di Piazza Caduti di Nasseria all'ex ospedale civile di Ragusa anche oggi stamattina si sono riformate le solite file, le solite problematiche con attese lunghe e in una situazione oggettivamente che è carente ora io ho visto e ho letto molti post anche di alcuni personaggi politici locali che fanno un appello al sindaco perché apra più centri vaccinali e cerca di andare incontro ad una migliore organizzazione ma non è solamente facendo un appello al sindaco che si risolve il problema è ovvio che qui dobbiamo prendere coscienza che in alcuni casi è stata sbagliata la scelta di questo sito perché appunto l'ospedale, il vecchio ospedale civile non ha la possibilità di accogliere all'interno e quindi al coperto le persone che vanno ad avere la somministrazione del vaccino ora era forse più opportuno scegliere un palazzetto dello sport o anche il teatro o tenda almeno avremmo potuto mettere al coperto chi si va a vaccinare ma a parte il discorso della scelta del sito non è che perché lo abbiamo scelto una volta non possiamo tornare indietro un'amministrazione se si rende conto che una scelta è sbagliata o l'aspel si rende conto che la scelta è sbagliata deve tornare indietro e cercare di migliorare la situazione perché qui non è che la campagna vaccinale finisce domani ma andrà avanti per molti mesi e dato come sono i numeri delle dosi che si può fare e quelle che ci sono non penso che la finiremo tra molti mesi ma a parte questo non basta fare gli appelli al sindaco o fare gli appelli al manager dell'ASP numero 7 qui bisogna andare a individuare un qualcosa di concreto dobbiamo per esempio avere la capacità di creare a Ragusa una vera e propria authority comunale che si prenda carico di tutta quella che è la problematica della campagna vaccinale anti-covid e che cerchi appunto di individuare i siti migliori dare un'organizzazione migliore per quanto riguarda la campagna vaccinale e cercare di risolvere concretamente queste problematiche ora io capisco che aprire più hub è una cosa che sembra sulla carta ottimale ma poi ci si scontra col fatto che mancano le risorse umane perché è indiscutibile che poi già abbiamo i reparti pieni all'ospedale Giovanni Paolo II come da dichiarazione del dottore Rabito oggi al Tg1 delle 13.30 ma poi abbiamo i reparti pieni e abbiamo anche poco personale da poter distribuire nelle strutture per la campagna vaccinale ma a questo punto un authority che si intesti veramente in maniera concreta tutto questo è necessario in maniera anche da ottimizzare le risorse umane al meglio non possiamo fare semplici appelli dobbiamo veramente dare i contributi di idee perché questa situazione possa trovare una soluzione e non come dicevo all'inizio andare avanti con il dilettantismo che in questo momento ci sta contraddistinguendo alla prossima puntata